ciao e benvenuti su gallio play in questo video vi spiegherò come ottenere il trofeo la bella del ballo in mirror rage catalyst il luogo per ottenerlo è quello che potete vedere in questo momento mettete in pausa se non lo trovate comunque siamo vicini a una casa sicura ora quello che dovremmo fare sarà scavalcare fare una scivolata saltare scalare un muro girare saltare correre sul muro girare saltare e fare una capriola non è per niente semplice ci ho messo un bel po di tentativi come potete vedere questi sono tutti tentativi falliti però il percorso da fare è questo una volta scavalcato e scivolato dobbiamo correre diciamo dietro questo ingresso per poter fare tutte le altre mosse che richiede quindi corriamo scavalchiamo qui e facciamo una scivolata poi corriamo subito all'interno saltiamo contro questo pilatto ci giriamo e saltiamo ci farà una corsa contro il muro poi prima di arrivare in fondo dobbiamo rigirarci saltare e fare una capriola quando atterriamo ora qui pensavo di aver fatto tutto correttamente ma in realtà no adesso vi metterò ovviamente la sequenza finale dove ho ottenuto il trofeo ma alla fine quello che ho fatto è praticamente questo qui possiamo vedere che faccio tutti i movimenti necessari e alla fine dopo svariati tentativi riesco finalmente a ottenere questo stramaledetto trofeo bene per questo video trofeo è tutto come al solito vi chiedo un bel mi piace commentate e iscrivetevi ci vediamo al prossimo video trofeo di mirror rage catalyst ciao